Sono le ore 14.42, mancano di fatto pochissimo all'inizio di Napoli-Udinese di questa quindicissima giornata e cosa mai è successa fino a questa giornata di campionato? C'è ancora tantissima gente che deve fare il suo ingresso qui nelle tribune, tantissime file di tifosi che appunto aspettano il loro momento di entrare, quindi ennesimo sold out che però questa volta sta facendo tenere tanti tifosi all'esterno dello stadio fino a pochi minuti prima dell'inizio della gara perché ricordiamo alle ore 15 quindi fra di fatto poco meno di 15 minuti sarà l'inizio della partita Napoli-Udinese gara valida per la quindicesima giornata di campionato, questa è la situazione all'esterno dello stadio Maradona che ricordiamo sarà tutto esaurito per quest'ultima gara del 2022 per il Napoli che chiuderà oggi in casa l'anno solare 2022, questa è la situazione a pochissimi utili dal match